Benvenuti all'intervista, si parla in questi giorni moltissimo del Movimento 5 Stelle, della questione dei rimborsi, anche noi vogliamo capirne di più e approfondirla e lo facciamo con una delle parlamentari del Movimento 5 Stelle che è stata più votata nelle loro parlamentarie, vale a dire con la senatrice Paola Taverna. Prima di cominciare l'intervista, la scheda di Lorenzo Gaggi. Senatrice alla prima legislatura, 48 anni, Paola Taverna è nata a Roma e nella capitale ha lavorato per diversi anni nel settore della sanità privata. Già attivista del Meetup Amici di Beppe Grillo, è parte del Movimento 5 Stelle già dai tempi della fondazione, nel 2009. A Palazzo Madama, ma anche sui social, è famosa per i suoi interventi spesso accesi e appassionati e per la dedizione nello studiare le leggi in esame. Di recente, replicando al PD sul caso Rimborsopoli, ha detto Siamo contenti che il tesoriere del PD Bonifazzi affermi di aver restituito 5.000 euro provenienti da Salvatore Buzzi. Ora però il PD restituisca i restanti 190.000 euro di finanziamenti di Buzzi alle diverse articolazioni dei DEM. Benvenuta all'intervista, senatrice Taverna, però occupiamoci dei rimborsi di casa vostra. Allora, intanto, lo dico perché non c'è nessun motivo di non dirlo, una delle ragioni per cui l'abbiamo invitata qui all'intervista è capire come sta messa lei con i suoi rimborsi. Ha portato come d'accordo le rendi contazioni? Sì, abbiamo fatto una richiesta alla banca dove venissero certificati tutti i bonifici da me effettuati dal 2013 fino al 2018. Questi corrispondono a tutte le donazioni, ossia soldi personali, vi faccio vedere sono ben due fogli, soldi personali ai quali io, a seguito della rendi contazione di ciò che ho utilizzato per la mia attività parlamentare, ho donato al fondo per le piccole e medie imprese. Non c'è il totale, ve lo dico, ma potete eventualmente farlo se non mi credete. Io ho donato alla fine di questa legislatura 195 mila euro e credo che un'azione del genere vada rispettata e anche apprezzata. Ho sentito qualunque cosa. Però, senatrice, sicuramente la sua azione è apprezzata un po' meno quella dei 10, c'è chi dice 10, c'è chi dice 14 esponenti del Movimento 5 Stelle che invece i rimborsi non li hanno devoluti, se li sono tenuti. Mi scusi, ma se il Movimento 5 Stelle non è neanche capace di verificare chi si comporta bene e chi si comporta male al suo interno, come potete aspirare a governare un paese? Noi abbiamo fatto più verifiche durante gli anni, è notizia di oggi che ci fu un accesso anche da parte della deputata Terzoni un paio di anni fa dove tutto risultava regolare. È vero, probabilmente abbiamo peccato di troppa fiducia. Fatto sta che nel momento in cui è uscita fuori la notizia che potevano esserci delle situazioni che non corrispondevano alle nostre regole abbiamo agito immediatamente. In 72 ore noi abbiamo riscontrato quelli che erano i bonifici fatti, individuato chi era mancante e chiesto di uscire dal Movimento 5 Stelle perché per noi il comportamento di non rispettare una promessa etica fatta ai nostri elettori è un comportamento che esclude dal percorso del Movimento 5 Stelle. La deputata Giulia Sarti ha annunciato che si autosospende. Allora intanto c'è questa cosa un po' bizzarra del fidanzato, ex fidanzato della deputata Sarti che dice io ho le telefonate registrate, cioè non è proprio un clima di fiducia di coppia. Dottoressa Latella, io da esponente del Movimento 5 Stelle mi occupo della deputata Sarti nella misura in cui lei sia o non sia in grado di rendere regolare la sua posizione all'interno del Movimento. Poi il gossip legato alla sua situazione personale lo lascio sinceramente a chi se ne vuole occupare ma a me non interessa. Dovrà ridire al Movimento 5 Stelle se effettivamente la sua situazione delle rendicontazioni, delle donazioni è regolare. Lei si autosospende la Sarti così come voi avete diciamo espulso, Di Maio ha espulso 10 persone. Il punto è che comunque questi restano in campagna elettorale e quindi potranno essere eletti. Questa mattina sul Corriere della Sera in un articolo firmato da Tommaso Labate, il senatore Naccarato lo dice chiaro e tondo. Noi contiamo su questi che sono stati espulsi dal Movimento 5 Stelle perché pensiamo che possano venire a ingrossare le fila dei cosiddetti responsabili che daranno una mano eventualmente a formare un governo di larghe intese. Dunque oltre danno anche la beffa per voi? Spero proprio di no. Il problema più grande è legato all'assurdità della legge elettorale che non consente di esprimere le preferenze. Se noi ci pensiamo, se gli italiani si soffermano un attimo sul vulnus di questa situazione, noi abbiamo cercato di fare delle liste che fossero il più trasparenti e il più aderenti a quelli che sono i nostri principi. C'è stata qualche defiance che oggi stanno venendo fuori, ma questo problema non sussisterebbe se la legge elettorale prevedesse le preferenze. Io credo che sia ovvio che nel momento in cui si ha conoscenza di alcune situazioni che non rispecchiano a quello che uno aderisce nel momento che va a votare, queste persone non sarebbero state elette. Nessuno avrebbe scritto il nome di uno o dell'altro. Purtroppo siamo di nuovo di fronte ai listini bloccati come ben conosce il dottor Naccarato, al quale però do la buona notizia che innanzitutto speriamo che almeno la promessa di non accettare l'elezione nel caso venissero eletti sia rispettata. Qualora non rispettassero questo, confido che rispettino almeno il programma del Movimento 5 Stelle del quale non fanno più parte, ma che hanno portato avanti durante la campagna elettorale. Quindi, anche se dovessero entrare, non credo che andranno a rimpinguare altre file. il dottor Naccarato può cominciare a vedere di fare spesa di eletti altrove. Quindi, lei dice che lo shopping non dovrebbe riuscirgli. D'altra parte, però, se questi decidessero invece di sostenere un governo di larghe intese, Michele lo potete impedire, no? No, nessuno impedisce nulla. Però io voglio anche chiarire che queste sono delle persone che non hanno rispettato una promessa con gli elettori legata alla donazione di propri soldi a beneficio delle piccole e medie imprese. Se bisogna fare un processo a tutti i politici che non hanno rispettato le promesse fatte agli elettori, io credo che sarebbero da sbattere fuori dal Parlamento il 90% di quelli che ci sono stati e probabilmente escluso il Movimento 5 Stelle di quelli che rientreranno. Confido nel fatto che facciano un passo indietro nel momento dovuto. Renzi dice che siete diventati il partito degli ex onesti. Ma Renzi dice tante cose. Sinceramente, dalla bocca di una persona che aveva promesso di farsi da parte qualora avesse perso il referendum e che oggi si presenta candidato al Senato, lo stesso Senato che voleva abolire, io oggettivamente non prendo lezioni di moralità né tantomeno consigli su chi siamo o chi non siamo. Vi farà perdere voti questa questione di rimborsopoli? I sondaggi che io prendo sempre con le dovute precauzioni in realtà dicono l'esatto contrario. Questa storia si è un po' rivelata un boomerang per chi la voleva così cavalcare contro di noi. Perché fino a qualche tempo fa, pochi italiani, io per prima, quando dicevo guardate che ho restituito 200 mila euro, mi dicevano ma davvero voi li restituite? Ecco, oggi, grazie all'informazione, tutti gli italiani sanno che il Movimento 5 Stelle è stato l'unico a fare una spending review dall'opposizione sui costi della politica destinando alle piccole e medie imprese 23 milioni di euro. 23 milioni di euro non sono pochi. Resta comunque il fatto che c'è una specie di fuggi-fuggi, non di massa ma dei segnali un po' strani. Per esempio l'improvvisa fuoriuscita dell'eurodeputato Davide Borrelli che era uno dei tre soci dell'associazione Russo. Secondo lei quanto c'è di vero nel fatto che andrà a creare un nuovo partito, un partito grillo-leghista che sembra voler pescare tra i vostri dissidenti? Borrelli è l'unico che è fuggito, gli altri li abbiamo accompagnati alla porta per i noti fatti. Ma Borrelli è stato un po' un fulminaccial sereno, ha deciso di fare questa scelta che probabilmente è anche legata al fatto che lui con il Movimento 5 Stelle non avrebbe più potuto ricandidarsi. Era al suo secondo incarico politico e per noi dopo due mandati deve necessariamente lasciare la politica. Quindi dietro a tante critiche così vicine a degli interessi molto personali di poter continuare a fare politica con un altro movimento ci vedo più la voglia di bypassare le nostre regole piuttosto che delle serie critiche al movimento. Ma chi c'è dietro questa fuoriuscita di notizie? Qualcuno vi ha visto un moto anti Di Maio? C'è una sofferenza per la svolta moderata del Movimento? No, noi stiamo affrontando questa campagna elettorale consapevoli che anche grazie a Luigi ci presentiamo al Paese come una forza di governo, come una forza con un programma organico, con delle soluzioni importanti e con la freschezza e la voglia di poter dare al Paese tanto. Guardi, questi cinque anni per noi sono stati faticosissimi. Abbiamo combattuto contro tutto e tutti perché ci siamo trovati in un contesto politico che non corrispondeva minimamente a quello di cui il Paese aveva bisogno. Quindi nessun problema interno se non la grande voglia di fare e fare bene. Però senta, in ogni caso Di Maio ha fatto un'inversione ad un molto significativa, per esempio sull'Europa, che prima era nel mirino del Movimento 5 Stelle e ora molto meno. Dica la verità, c'è la possibilità che il Movimento 5 Stelle faccia parte di un governo di larghissima unità, un governo evocato anche dal ministro Marco Minniti? Sull'Europa Di Maio ha dato una lettura più aderente a quello che è il momento attuale rispetto a cinque anni fa quando siamo entrati con una forte avversione nei confronti del sistema Europa che è ben diverso da quello che era il progetto dell'Europa dei popoli, è diventato molto più un'Europa delle banche e dei soldi. Però oggi siete molto meno stili all'Europa e anche sulla moneta unica avete frenato. Sulla moneta unica abbiamo sempre detto la stessa cosa. Noi vogliamo ascoltare il pensiero dei cittadini italiani che si sono ritrovati in un contesto europeo che li ha visti molto penalizzati per come è stata gestita poi l'ingresso della moneta dell'euro dicendo che volevamo fare un referendum consultivo. E questo lo volete fare ancora? Ma sì, sì, quello lì potrebbe essere comunque a prescindere una strada da perseguire. però ci siamo anche accorti che tante cose delle quali si dà colpa all'Europa, perché lo vuole l'Europa, lo vuole l'Europa, poi non vengono dichiarate qui in Italia quando l'Europa vuole delle cose che anche noi condividiamo, quando l'Europa vuole una maggiore attenzione per l'ambiente, quando l'Europa ci dà delle sanzioni perché noi abbiamo bloccato il turnover all'interno del comparto sanitario. Insomma, non tutto è negativo quello che viene da... Lo dice qua, lo dice qua. Purtroppo quello che i precedenti governi hanno portato dall'Europa è stato completamente negativo per i cittadini italiani. Quello che poteva essere buono hanno dimenticato di trattarlo. Quindi anche i vari trattati per il Made in Italy, per i nostri prodotti d'eccellenza, se gestiti in questa maniera barbara, sono negativi. Bisogna andare in Europa e gestire bene quelle che sono le nostre potenzialità. Sette, senatrice, sul caso Rimborsopoli, il partito che vi ha attaccato di più, qual è stato? Chiamiamola Donazionopoli. Quelli non sono rimborsi. I rimborsi sono quelli che percepiscono tutti i parlamentari, noi compresi, solo che noi, dopo aver detratto le spese che utilizziamo per l'esercizio politico, doniamo alle piccole e medie imprese. Gli altri parlamentari se li mettono in tasca e finanziano i loro partiti. Quindi cominciamo a rirare il senso. Il familismo, l'accusa di familismo che viene rivolta spesso al movimento... Ma la veste, scusi se l'ho interrotta perché poi mi rivengo in mente, oggi c'è una notizia scandalosa dell'indagine a carico di uno dei due figli del governatore della campagna De Luca per probabile corruzione legata al traffico illecito di rifiuti. Quindi stiamo parlando della campagna, stiamo parlando di rifiuti, quindi stiamo parlando di una situazione molto pesante. Allora, qui abbiamo una famiglia dove c'è un figlio che in questo momento è indagato per corruzione, c'è un padre che è condannato per peculato e c'è l'altro figlio che è indagato per bancarotta fraudolenta. Allora, familismo forse riguarda il PD, sono tutti e tre del PD, il terzo figlio è quello adesso candidato per la Camera dei Deputati in Campania. Allora, io sono abituata che esistono delle bilance sulle quali vanno messi le situazioni che si vanno ad analizzare. Sono sette giorni che si parla dell'unico movimento politico che restituisce i propri soldi a vantaggio delle piccole e medie imprese e si dimentica invece di tutti gli altri esponenti politici all'interno dei partiti che prendono i soldi pubblici e li mettono nelle proprie tasche. Mettiamo sulla bilancia queste due cose e lasciamo decidere agli italiani dov'è lo scandalo. Le devo dire che chi per esempio in queste ore contribuisce anche a criticarvi sono persone che hanno lavorato con voi. Penso per esempio all'ex assessore Colomban che in un'intervista ha detto io non voterei più Movimento 5 Stelle, non voterei più Virginia Raggi e poi ha detto anche a proposito di Grillo credo che Luigi Di Maio abbia delle buone idee economiche, bisogna vedere che cosa gli consentirà di fare Grillo. Insomma le critiche vengono anche da chi avete chiamato voi a lavorare con voi. Noi l'abbiamo chiamato, il dottor Colomban è stato assessore per il riordino delle partecipate che noi sin dall'inizio avevamo detto essere un assessorato a tempo perché una volta terminato quello che era il suo compito di questo riordino, infatti abbiamo l'ATAC in concordato preventivo e l'AMA che se la regione Lazio con Zingaretti riesce a chiudere finalmente il nostro piano dei rifiuti può veramente servire il paese, dopodiché aveva terminato il suo ruolo con l'amministrazione Raggi. Oggi si sente dire tra le cose che ho letto anch'io che sembra avvicinarsi a questo pseudomovimento che vorrebbe creare Borrelli, quindi io non posso dire altro che buona fortuna, il suo lavoro qui l'ha fatto e comunque lo stiamo facendo quello che ha fatto lui. Cioè lei dice che sta cercando di crearsi una seconda carriera politica? Credo che abbia altre ambizioni e comunque ripeto, noi stiamo mettendo in pratica quello che lui ha fatto durante il suo periodo di assessorato, quindi sta criticando un po' anche se stesso, non so quanto sia coerente. Tra i partiti che invece vi hanno attaccato meno per questa vicenda c'è la Lega, questo significa che per esempio dopo il 4 marzo se non si riuscisse a fare un governo, se non vinceste voi, voi potreste considerare l'ipotesi di un governo con la Lega? La Lega forse non ci attacca perché tra le sue fila ha dovuto necessariamente reinserire il patron Bossi che attualmente è condannato per truffa avendo usato i soldi destinati al partito per scopi personali, quindi credo che abbia avuto la decenza, considerando chi ha tra le sue fila, di non criticare un fatto totalmente privo di qualunque reato che accadeva nel Movimento 5 Stelle, non c'è nessuna possibilità. Non c'è nessuna possibilità che... No, io almeno non ne vedo proprio. Neanche che Di Maio e Salvini si parlino? Di Maio ha detto chiaramente che noi ci presenteremo agli altri partiti politici con un programma che io invito i cittadini a leggere perché è un programma organico e di quello che serve per il Paese. Ma c'è una proposta che lei vuole firmare qui da noi, è vero? Questo è stato il primo punto di convergenza che Luigi ha presentato a tutti i capi politici. Io oggi lo firmo in maniera impropria perché è destinato ai capi politici per impegnare i propri parlamentari a votare. Di che si tratta? Si tratta dell'impegno di fare quello che noi abbiamo dimostrato che si può fare, ossia dimezzarsi lo stipendio e restituire i soldi dei rimborsi, quelli veri, quelli che lo Stato dà ai parlamentari dopo averli rendi contati. Io le do una penna e lei qui prende l'impegno davanti a lei di essere una dei parlamentari ai quali Luigi chiederà di fare di nuovo questo impegno e che già ce l'ha. Spero che questo venga firmato, glielo lascio. Sì, me lo terrò e ce lo ricorderemo. Quando avrà ospiti i vari esponenti e capi dei partiti politici e li inviti a fare altrettanto. Quindi lei dice noi proporremo delle proposte politiche e chi ci vuole stare ci sta. Ma è una forma diciamo diplomatica di aprirsi a un governo di larga intesa o di unità nazionale? È una forma democratica di permettere al Parlamento di riassumere la sua centralità. Ricordiamoci bene che fino a oggi di alleanze se ne è parlato come suddivisione delle poltrone, l'alleanza fra il PD e Forza Italia, l'alleanza fra il PD e il partito di Alfano si è poi ridotta in un mercimonio di tu chi vuoi diventare ministro e chi vuole diventare quell'altro sottosegretario. Quale sarebbe la differenza invece? La differenza è che noi non proponiamo poltrone, proponiamo un programma che serva agli italiani e io credo che per fare il proprio dovere di parlamentare, ossia votare quello che serva al Paese e non quello che serva al proprio partito, sia uno scopo unico. Non siamo ipocriti, poi bisognerà eleggere il Presidente del Senato, eleggere il Presidente della Camera, eleggere i Presidenti di Commissione e lì farete degli accordi. Lì più che accordi sarà un giusto riconoscimento democratico della rappresentanza di tutte le forze politiche. E comunque mi permetta, si fa una competizione elettorale sperando di vincere. Qui io sto sentendo tutti i partiti che sperano di capire quali sono le percentuali degli altri per vedere se tutti insieme riescono ad avere la maggioranza per poter governare. Noi facciamo questa competizione elettorale per avere una maggioranza tale che ci permetta di governare da soli. Non è impossibile. Il 40%? Non è impossibile, ci sono ancora molti indecisi ai quali fondamentalmente è rivolto il nostro messaggio. Pensiamoci bene perché il 4 marzo chi non voterà Movimento 5 Stelle riconsegna questo Paese a un'alleanza, a una grande intesa che rivede gli stessi personaggi, forse Italia con Berlusconi, PD con Renzi, Leo con Pietro Gasso che è stato il mio Presidente del Senato e al quale ho un grande affetto a livello di persona ma credo che come soggetto politico sia un po' tardivo il suo ingresso visto che sono passate tante legge. Senza senatrice, però novità, novità, pure voi ci avete i massoni, ben tre, Catello Vitiello, Bruno Azzerboni e Piero Landi. Io vorrei sapere perché non si possono rendere pubbliche le liste degli iscritti alla massoneria. Lei lo sa che oggi non è possibile accedere a queste liste però a me è venuto un dubbio. Noi siamo l'unico movimento che ha per statuto che non si possono candidare chi è iscritto alla massoneria e ci hanno provato in tre e le abbiamo scoperte. Ma gli altri partiti che non hanno neanche avuto la premura di inserire che non vogliono i massoni comincino a fare un controllo serio e troviamo la possibilità di avere pubbliche queste liste oppure li vogliono. Mi scusi, lei lo sa che ci sono stati massoni di grande, diciamo, statura politica? Anche Mazzini era un masson. Dottorio Salatella, io quello che mi ricordo è la tessera della P2 di Silvio Berlusconi ed era certo una forma di massoneria che spero non si ripeta. Quindi facciamo attenzione quando confondiamo Mazzini con... Con Catello Vitiello, lei dice. Ecco, facciamo. In chiusura, questo è un paese per vecchi e anche voi del Movimento 5 Stelle ve li tenete cari gli elettori di una certa età perché il reddito di cittadinanza va bene e pensate ai giovani ma sulle pensioni c'è la pensione di cittadinanza. Di che si tratta? Abbiamo un minuto. Non li teniamo cari come voti ma pensiamo veramente che oggi bisogna riguardare la terza età con tutta la dignità che merita. Non si può immaginare una persona pensionata a 400 euro. Abbiamo il progetto, così come accade con il reddito di cittadinanza, di integrare le pensioni fino a una soglia minima di 780 euro che è quella dichiarata dall'Istat per non essere sotto la soglia di povertà e poi abbiamo immaginato una riforma della Fornero chiamando la famosa quota 100 ossia quando tu raggiungi tra gli anni di contributi e l'età anagrafica quota 100 ossia cominci a lavorare a 20 anni e versi 40 anni di contributi signori credo che a 60 anni si abbia ancora diritto di andare in pensione. Lei qui assicura che troverete le coperture finanziarie per fare il reddito di cittadinanza e la pensione di cittadinanza? Io qui assicuro che siamo l'unico partito che è stato tartassato con avete le coperture, avete le coperture abbiamo fatto talmente tanti di quei calcoli e abbiamo l'ok da parte di tante di quelle strutture che ce l'hanno verificati che posso garantire che le coperture ci sono ci sono e come vanno solo ben gestite. Renzi dice non credete a Babbo Natale neppure alla Befana. Beh io dico non credete a Renzi. Buon fine settimana senatrice Taverna e grazie a voi che ci avete seguito ci vediamo come sempre sabato. Grazie a tutti. Grazie a tutti.